Buongiorno, benvenuti alla Rassegna Stampa in diretta alle 7.30. Un saluto va anche a coloro che ci seguono nelle repliche durante il corso della mattinata e alle 13.30. Oggi è sabato, ultima Rassegna Stampa della settimana, prima di guardare però i giornali, come sempre il Santo del Giorno, che in questo caso sono due, e poi le previsioni del tempo, sabato 26 settembre, Santi Cosma e Damiano Martiri sono i Santi Medici, questa la so, il sole è sorto alle ore 6.59 e tramonterà alle ore 19. Guardiamo le previsioni del tempo, partiamo subito con questa bella immagine che ci rimanda la webcam, apposta sopra qui la nostra sede, vedete sembra quasi una cartolina, il cielo nuvoloso ma dai colori belli, intensi e carichi con i raggi dorati del sole che scaldano le colline. Vediamo la temperatura in questo momento è decisamente un po' più alta rispetto alla media dei giorni scorsi, siamo intorno ai 20 gradi, 19 gradi, un'umidità del 70%. Vediamo invece cosa ci dicono gli amici della protezione civile che come sempre ci danno la proiezione per i prossimi giorni, partiamo da oggi sabato, vedete il cielo è inizialmente nuvoloso, parzialmente nuvoloso nella seconda parte della giornata, ci sono possibili precipitazioni e anche rovesci però sono sulla parte montuosa della regione, le temperature sono in lieve aumento, sulla costa non dovrebbe esserci nessuna precipitazione, usiamo sempre il condizionale perché poi magari veniamo sbugiardati. Ecco, cielo inizialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso, questa è la previsione per domenica e naturalmente vedete anche la simbologia molto eloquente, anche qui le precipitazioni ci saranno, se ci saranno in serata, ma in corrispondenza dei rilievi, le temperature però scenderanno di qualcosa. Lunedì invece c'è un cambio sostanziale, vedete anche la simbologia molto chiara, nuvole senza sole, nuvole anche scure, quindi cielo nuvoloso. In una parola abbiamo riassunto rovesci e temporali sparsi nel corso della giornata le temperature sono in aumento. Vediamo la tendenza per i prossimi giorni, i prossimi giorni della settimana all'insegna dell'instabilità con un marcato peggioramento per il fine settimana, si parla della settimana prossima. Quindi insomma un inizio di settimana e poi anche un prosieguo non proprio eccellente dal punto di vista meteorologico. Guardiamo subito i giornali. Partiamo da Fano per il Corriere Adriatico, in evidenza Profiglass finanzia la centralina anti-smog, firmata una convenzione per il monitoraggio della qualità dell'aria nella zona industriale di Bellocchi. E poi la Giunta ha approvato lavori per oltre un milione di euro, anche la ricostruzione dell'ala crollata di Palazzo Norfi destinata ad archivio di Stato. Secondo lotto della bodifica all'amianto, inderoga al patto di stabilità, rifacimento dell'astricato alla stazione del treno e riseramenti dei loculi. Queste le opere da finanziare. Ancora dalla pagina di Fano, caso della Solaris, contratto fantasma, la direzione tace, dubbi dei sindacati, che ha firmato l'affidamento alla società e quindi sanità bollente per il Corriere Adriatico. Amadori dice da mesi chiediamo un incontro a Di Bernardo che non risponde il 30, vertice in prefettura. Vedremo anche questa vicenda, come evolverà. Offriamo accoglienza contro l'egoismo. E questo è il vescovo che parla, rappresentazione di un libretto sui migranti. Lo 0,1% dei residenti senza i politicanti non ce ne accorgeremmo. Questa è la dichiarazione e anche i contenuti dell'opusco, che poi vedremo anche in altre testate. Andiamo con il messaggero. Partiamo da Pesaro. In primo piano, la pagina di apertura del messaggero del quotidiano romano, la sanità. I medici convincono la regione. Si parla di liste d'attesa. Cerisciole accoglie le osservazioni. Il decalogo sarà riscritto. Il voto di lunedì verso il rinvio. Oggi l'azienda ospedaliera nominerà un responsabile. Poi la Leopolda che si è trasferita ad Ancona con il ministro Maria Elena Boschi. Fotonotizia, la scelta, già avviati i contatti con il comune confinante. Si parla di fusione e accorpamento anche per Urbino che pensa alla fusione con Tavoleto. E poi di spalla l'episodio di cronaca che ha visto un assalto, possiamo dire, a colpi di mazza afferrata a un bar svaliggiato. Ancora rimaniamo nel quotidiano romano. Vediamo di che cosa si parla. Per la sanità le liste d'attesa erano un claim anche durante la campagna elettorale. Le liste d'attesa soprattutto, sia per il presidente uscente che per quello che è succeduto, ceriscioli. Piano liste d'attesa, ceriscioli ai medici, sì alle osservazioni. Quindi si apre il dialogo con i diretti interessati, una parte dei diretti interessati, gli altri sono appunto i cittadini. Il decalogo sarà riscritto e quindi vedremo cosa conterrà questo decalogo che parla di temi carissimi a tutti quanti. Insomma, le liste d'attesa sono un flagello. Anche noi a Occhio alle Notizie vi abbiamo parlato spesso di prenotazioni con 18, 16, 20 mesi di attesa. Veramente insostenibile come situazione. Vediamo se ci si riuscirà a mettere le mani in maniera incisiva. Ancora il 2016, rimaniamo a Pesaro con il messaggero, il 2016 sarà l'anno del centro storico. Già pronti i progetti, il Comune vuole intervenire sia su Piazza Olivieri rendendola pedonale e su parte del corso. Ricci dice che prima della prossima estate vorrei il completamento dell'abbellimento degli orti giuli per iniziative e richiamo. Gli orti giuli sono un polmone verde nella città di Fano, di Pesaro, chiedo scusa, un bellissimo sito dove si possono fare tantissime cose. Ancora, ospedale Marche Nord, si continua a parlare di sanità, slitta la nomina del direttore generale e anche sul presidente della conferenza dei sindaci di area vasta, Gambini propone una figura di garanzia. Si parla anche dell'area ex AMGA, il sindaco Ricci dice appunto ci vuole un'area verde anche in questo sito, quindi la terza torre va cancellata. È stato chiaro il sindaco ai suoi assessori, la terza torre non sa da fare, al suo posto dovrà nascere un'area verde con l'indicazione di un parco urbano fruibile dalla cittadinanza. Questo è avvenuto durante la giunta. Andiamo quindi a vedere a Urbino pronta la fusione con tavoletto, quindi insomma un po' un effetto a catena che si sta verificando. Pesaro guarda a Monbaroccio, mentre il cocapoluogo pensa alla piccola realtà confinante con poco più di 900 abitanti. Gambini, il sindaco di Urbino, dice abbiamo avuto un confronto anche con altri comuni, la decisione potrebbe essere discussa in consiglio già a ottobre. Questa è una tendenza un po' generalizzata, di cercare di fare massa critica per vincere un po' le tenaglie del patto di stabilità che imbriglia un po' tutti i lavori che si possono fare. Tutti i comuni hanno un tesoretto che è lì fermo. Fano con il messaggero smog nella zona industriale, l'azienda paga la centralina, la Profilgras finanzierà appunto l'impianto, sarà installato a gennaio, così i residenti potranno consultare i dati su internet, quindi si potrà verificare in tempo reale l'evoluzione dello smog. Rita Carnaroli e Filippo Carloni dicono che si dà una risposta concreta alla preoccupazione dei cittadini. E poi anche qui di spalla vi dicevo il messaggio del Vescovo, la Chiesa contro le bugie e sui migranti pubblica un opuscolo che tenta di sfatare i luoghi comuni e i dati falsi. In gioco, dice il Vescovo Trasarti, la nostra credibilità umana. E poi qui di spalla nella pagina di Fano del messaggero, la festa dei fiori, shopping tra colori, aromi e tante curiosità. Questo weekend, insomma sarà un weekend profumato e colorato per tutti coloro che amano adornare le proprie case, i propri balconi con fiori o i giardini se li avete. Andiamo con l'ultima testata che vi facciamo vedere, naturalmente il resto del Carlino, Fano, si parla di Terme, tutta l'area in una variante del piano regolatore. L'assessore Paolini replica i proprietari dopo la richiesta di un super risarcimento. Vedete l'assessore qui che mostra la planimetria. Carignano, il sollecito è rivolto al raggiungimento di obiettivo politico. Insomma, anche questa era una perla di Fano, sicuramente un servizio che tanti cittadini ne sentono la mancanza e poi potrebbe essere anche un motivo di sviluppo turistico, perché no? L'altra pagina di Fano si occupa di svariegati argomenti e il grigli occupanto con la vecchia giunta. Si parla appunto della coda lunga della vicenda che è avvenuta l'altro sabato. Autogol della destra, interrogazione fatta con coppia in colla. E qui vedete una raffigurazione di mascherini. E appunto di spalle poi il carnevale, riunione in vista dell'edizione 2016, tutti sullo stesso carro. Serve un progetto nuovo. E qui vedete nella foto appunto uno dei carri più belli della scorsa stagione, il Bugiardon con il magnifico Pinocchio in primo piano. Turismo, il bilancio dell'estate. È stata una buona stagione, è mancato però un grande evento. Parla Boris Rappa, il mio eletto consigliere regionale. Quella di quest'anno deve essere un buon punto di partenza per trovare nuovi mercati. A parlare di questo dell'estate. Insomma è stata la Confesercenti che ha tracciato un po' le linee e ha anche fatto la summa di quell'iniziativa molto bella Art Hotel che ha visto gli hotel protagonisti come casse di risonanza per l'arte, opere d'arte esposte negli hotel. Andiamo con le pagine che riguardano Pesaro per il resto del Carlino. Si parla della piscina di via Togliatti, la federazione Pentatron e le due ditte appaltatrici dicono sarà ridotta di un terzo, ma ce la faremo, quindi non rimarrà un'incompiuta. Vedete qui nella foto, questo è un rendering che vi dà l'idea di come dovrebbe arrivare. Siglato l'accordo, però qui insomma anche se non sarà proprio come doveva essere, perlomeno ci sarà. Non c'è mai stata infatti un'incompiuta, l'orgoglio del sindaco e nemmeno questo edificio lo sarà. I fondi rimangono 7,5 milioni. Tagliato un po' il progetto, un ridimensionamento dell'opera e quindi sull'ultimo piano e semente rato resteranno grezzi, si faranno invece la piscina e l'impianto. E questo è sicuramente buona cosa, visto che insomma l'Italia ha il primato non poco edificante delle incompiute. L'ultima cosa che vi sottopongo per questa rassegna stampa dalla fase del resto del Carlino, un episodio che ha visto il protagonista un signore che voleva entrare in tribunale, siamo appunto a Pesaro, con un coltellino, è stato denunciato un uomo. È il tredicesimo caso dall'aprile scorso, i controlli si sono fatti un po' serrati anche visto quello che è successo al tribunale di Milano e comunque i controlli per quanto riguarda questo dimostra sicuramente che i controlli sono efficaci. È stato bloccato dalla guardia giurato e ha spiegato che non si era ricordato di averlo in tasca. Per intanto però è stato fermato qualunque siano state le sue rimembranze o perlomeno quello che voleva fare. Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia in questa prima parte dell'informazione per oggi e non mi rimane altro che augurarvi buon sabato e buon fine settimana a tutti voi. Arrivederci alla prossima. Grazie.